Ciao a tutti, io sono Daria e ieri ho fatto la One Long Session con Elisa. Vorrei tanto raccontarvi che cosa è stata per me questa One Long Session e la mia esperienza. Parto dalla fine, ieri sera racconto a mio marito della One Long Session e lui mi dice Ok, welcome back Daria. Quindi qualunque cosa ci siamo dette io e Elisa ha funzionato, ve lo assicuro, ma io ve lo racconto. Allora io ho contattato Elisa per la prima volta qualche giorno fa perché ero veramente in crisi profonda con il mio business che ho messo in stand by, avevo messo in stand by già da diversi mesi e pensavo di chiudere. Io ho un'accademia di formazione per maggior domi, house manager, personal assistant, yacht stewardess, yacht interior manager, housekeeper, laundry girl, eccetera, eccetera. Quindi formo persone che lavorano in ambienti di lusso al servizio di milionari, nello specifico yacht, ville e piccoli resort. Lavoro in questo ambiente da quando avevo 17 anni e ne ho 50. Quindi dieci anni fa torno in Italia per amore, apro la mia accademia, il lavoro va benissimo. Poi cambia il mercato, cambiano le persone che vogliono lavorare al servizio di questi milionari e le motivazioni per cui decidono di lavorare per questi milionari. Quindi mi sento un po' come il rappresentante della folletto, che ti deve dire che tu hai bisogno di questo elettrodomestico per pulire bene. Ed è una posizione per me scomoda, non mi piace, cioè io sono un maggior domo e per fare bene il mio lavoro so che devo stare sul pezzo e mi devo formare. E se voglio guadagnare tanto e avere il privilegio di lavorare al servizio di determinate persone in un determinato ambiente, io devo produrre. E per produrre devo sapere. Quindi sono pagata se produco. Detto questo, io penso in tutti gli ambienti di lavoro, ma ha maggior ragione quando comunque di base inizi a guadagnare entrando un sacco di soldi, cioè 5, 6, 7 mila euro come niente di base. Quindi insomma qualcosa devi saper fare. E mi ritrovo che invece c'è pieno di gente che vuole questi posti di lavoro, vuole questi privilegi come lifestyle ed economici senza formarsi, senza prepararsi, senza avere il minimo delle competenze. Quindi dico che chiudo, la pandemia poi mi dà un bel colpo di mano, dico fantastico, tanto non li posso fare, quale migliore occasione, no? E mi convinco, vado in crisi, decido che forse posso fare il coach e quindi mi dicono ok, certo sì, ti formi, mi formo e poi mi lasciano lì con fatti il protocollo. Ok, come lo applico? Non mi piace, non mi trovo bene e non sono nel mio e quindi buio totale, mi butto sulla qualunque. E' arrivata sull'orlo del burrone, del precipizio, dico vabbè, magari prima di buttarmi chiamo Elisa, va, che mi sembra così calma, competente, capace, perché leggo, seguo Elisa da un bel po'. E quindi niente, lo faccio, lei mi trova un buco subito, mi dice ascolta ma io ti posso vedere subito, non ti voglio lasciare così, è stata stupenda. Ha capito che c'era bisogno di un rescue e quindi niente, ho delle aspettative e delle speranze, certo, ma a parte che non era difficile con me, ero veramente disperata, bastava dirmi ma sì, guarda che va bene se non vuoi più fare quello. Invece no, Elisa fa qualcosa di magico perché Elisa mi fa vedere che io posso continuare a lavorare nel mio ambiente, che amo la follia, facendo quello che più amo fare al mondo, che è appunto il mio lavoro. Tenere la mia nicchia che io conosco come le mie tasche, che sono i miei milionari e chi lavora per loro, cambiando semplicemente pelle o vestito, chiamiamolo come 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 preferite, restando me stessa e facendolo felicemente. Quindi io tutte queste possibilità non le avevo assolutamente viste, ma proprio per niente e anche le persone a cui avevo chiesto aiuto non erano state così capaci come è stata Elisa, che prima di tutto mi ha ascoltata come nessuno mai aveva fatto prima nella vita, devo essere onesta. Di questo ti ringrazio Elisa infinitamente perché uno dice ok, ho pagato un professionista per un tot di tempo e quindi è chiaro che poi one to one ci sei, sei tutta orecchie per me. Non è così scontato, no assolutamente. Elisa mi ha veramente ascoltata, mi ha aiutata. Lei aveva già capito molto prima delle tre ore e fischia, che cosa avrei potuto fare io di tutte le mie competenze e quindi niente insomma io la one long session sono felice di averla fatta, ma soprattutto consiglio a voi di farla a prescindere dal vostro momento lavorativo o personale. Cioè anche se pensate e siete in un momento fantastico, secondo me regalarvi qualche ora con lei vi sarà sorprendente perché... Perché... Ma lei dal cilindro tira fuori delle robe pazzesche, ma ve lo giuro, cioè non lo so. È stato fantastico, è stato bello, sono carica a palla, cerco di essere professionale, cioè di non esagerare, ma io in realtà ho le lacrime dietro gli occhiali che stanno per uscire perché questa cosa per me è emozionante. Cioè io avevo deciso di chiudere e invece oggi sono piena di idee rispetto ad un lavoro che tra l'altro è proprio tutta la mia vita, cioè io nasco chef e divento maggiordomo, cioè amare le persone attraverso queste due forme di amore, perché sono due forme di amore, prendersi cura e cucinare con amore e dimostrare amore. Non lo so, per me è tutto e io pensavo di essere finita. Adesso però mi commuovo. Quindi io volevo che fosse una restituzione senza filtri di nessun genere, quindi mi va bene commuovermi, mi va bene dire che a 50 anni sono entrata in crisi, anche se molto spesso le persone mi dicono che wow che donna in gamba, che figo quello che fai. Sì, è vero, ma sono entrata in crisi totale e io in, posso dirlo Elisa, forse quattro ore, poco meno di quattro ore, quindi alla faccia delle tre ore e tre ore e mezza, penso che abbiamo sforato e tu mi hai veramente rimessa al mondo e io ti ringrazio. E' inutile dire che ho chiesto ad Elisa di aiutarmi a rimettere insieme un po' il mio business, a ristrutturarlo, a dargli una nuova luce con dei nuovi prodotti e servizi e percorsi. Non vedo l'ora di iniziare, sarà dopo l'estate, perché adesso sono piena di idee che prima non avevo. E quindi ecco, questa è la mia restituzione. grata a me stessa per essermi data la possibilità di queste ore con Elisa. Ripeto, pensateci, prenotatela, fatela perché è potentissima, anche se pensate o credete di non averne bisogno, fidatevi, come ho detto. E niente, lei tira fuori così, i conigli dal cilindro. Eeeh, tanta roba. Un abbraccio a tutti, buona estate, a presto. Ciao a tutti.